buongiorno ragazzi siamo nel nuovo video oggi cucineremo qualcosa di interessante cuciniamo ehi salta qua eh salta qua salta ragazzi l'ho cacciato via perché come non è buona fanno qua oggi faremo un polpettone un polpettone fatto fatto come vieni vieni allora ci abbiamo macinato misto perciò ci abbiamo manzo e maiale poi ci abbiamo la salsiccia la fesce sola salsiccia ma sei sbagliato hai scattato del prosciutto cotto prosciutto cotto prosciutto cotto ho scattato muliver in offerta quello che costava di meno perché anche i soldi ce lo stavano il prosciutto il prosciutto non va in dallù questo coso guardate che bello questo prosciutto insomma non cagare stanno pochi young e young young e young young e young bravazione young e young per fare presto ce l'hanno frittato via il tuo piatto mettete qua aceto occo buco la mamma ma che bello va stacchini e formaggi poi la buttate dentro un'altra volta e la facciamo fare e la facciamo andare ancora un pochettino bravo poi ora vai dal lusso ti vuoi ti vuoi mettere il tuo microfono nooo non ce la scogli ti metti i professionali di cato e devi trovarli aspetta link in iscrizione su cato.it adesso tiratelo proprio per te vuoi chiamare dal lusso ferma oh io devo registrarlo devo fare la cosa si fermo poi chi vuole fare la ricetta a casa la puoi fare la frittate la spegniamo eh la spegniamo e la lasciano un po' raffreddare ora cominciamo con tutta la barana prendiamo il macinato stagliattano il paolo lo mettiamo sopra la carta sopra l'alluminio qua e poi lo schiacciamo bene 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 sottile deve essere lo strato bello sottile deve essere tutta una cosa bello fatto come si deve lavatevi le mani mi raccomando non è che vi toccate la capocchia e poi vi mettete a fare da mangiare guardate che bello sto macinato qua macinato mi raccomando io ci ho messo due uova sale formaggio grattugiato e pane grattugiato ok voi cerchiamo di tenere la cosa meglio possibile potrebbe essere postato per lo fine guardate guardate è bello guarda 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 bello allora sta cominciando a scicchiolare guarda guarda qui è in maniera bello hai detto il mio operatore è buono anche domani la cagarella è assicurata la cagarella la cagarella il prosciutto ce l'abbiamo messo volete un poco di salame ai miei imperatori che sono stati così bravi toh piglio il mucco piglio il mucco ma vuoi ne so cagare aveva quale gas no no cazzo vuole quello vuole qua sta qui è lui va bene guardate guardate intanto scherziamo dai vede pegna il mucco scherziamo guarda battentalo ah le tante il carbone e il mercatore sento due operatori fanno schifo stanno facendo solo le miscemane un inquadratore Lorenzo vabbè ecco lo stai ristorando allora buttiamo il polpettone oh! ecco qua bello mamma mia mamma mia acocadol mira acocadol ecco l'altro bestia guardate che bello guardate che bello guardate che bello signori il polpettone questo qua io a forno lo faccio perchè il mio forno è semplice invece la madella è una locura di più ci metto qui con questo lo lasciamo andare piano 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 e questo siamo a posto qua c'è la salsiccia che andiamo a utilizzare piano 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 Grazie a tutti.